Melenzane e poi prepariamo una pastella con l'uovo e le impaniamo con uovo e mollica e poi li friggiamo, semplice semplice. Un po' di pepe, un po' di sale, basta. Come fosse una cotoletta. Appunto, sì, invece di essere cotoletta di carne, è una bellissima cotoletta di melenzane. Musica 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 Musica